Ciao ragazzi, allora tra qualche settimana finalmente vedremo anche noi Ant-Man and the Wasp al cinema e dico finalmente perché in realtà nel resto del mondo è uscito tipo più di un mese fa non si sa com'è che delle volte qui in Italia i film o arrivano super in anticipo come è stato con Infinity War altre volte in super ritardo come Ant-Man and the Wasp comunque l'importante è che il film lo vedremo di Ant-Man and the Wasp sono abbastanza curioso perché comunque Ant-Man è un personaggio che mi è piaciuto fin dal suo esordio nel Marvel Cinematic Universe cosa comunque abbastanza interessante se ci pensate visto che si tratta di un personaggio praticamente sconosciuto al grande pubblico io lo conoscevo ma soltanto perché leggo i Marvel Comics eppure nonostante la sua scarsa notorietà alla massa è riuscito a conquistare un po' tutti il che non è scontato considerando che le premesse di questo personaggio non è che fossero le migliori visto che innanzitutto si proponeva con un nome abbastanza ridicolo l'uomo formica e con dei poteri che sulla carta potevano sembrare ancora più ridicoli ovvero il potere di ridursi alle dimensioni di un insetto insomma eppure nonostante questo Ant-Man è riuscito lo stesso a fare un ingresso col botto nel Marvel Cinematic Universe e quindi sono molto curioso di vedere che cosa accadrà all'interno di Ant-Man and the Wasp soprattutto considerando che magari all'interno di questo film scopriremo anche come mai Scott Lang non ha preso parte a Infinity War comunque prima di andare a vedere il film come è tradizione ormai vi voglio proporre 10 curiosità sul personaggio di Ant-Man esattamente come nei Marvel Comics Scott Lang è il secondo Ant-Man della storia nei fumetti infatti inizialmente era Hank Pym a vestire i panni del supereroe ma successivamente ha passato il testimone a Scott che cosa c'entra Ultron con Ant-Man? beh niente se ci atteniamo a quanto raccontato dal Marvel Cinematic Universe ma se prendiamo in mano i fumetti Marvel scopriremo che Hank Pym è il creatore di Ultron mentre nei film lo sono Tony Stark e Bruce Banner nei Marvel Comics Scott Lang è morto durante la saga Vendicatori Divisi in questa storia infatti Scarlet Witch impazzisce e il suo esaurimento nervoso provoca la morte di alcuni Vendicatori tra cui Ant-Man e Occhio di Falco successivamente Scott è tornato in vita grazie ai giovani Vendicatori che sono tornati indietro nel tempo per salvarlo il villain del primo Ant-Man Darren Cross veste i panni di un personaggio chiamato Calabrone in realtà nei Marvel Comics non è un nemico di Ant-Man ma una delle tante identità di supereroe che Hank Pym ha assunto nel corso degli anni Ant-Man è stato il primo film a introdurre nel Marvel Cinematic Universe il concetto di multiverso infatti in una delle scene più impressionanti del film Scott si rimpicciolisce a livello subatomico accedendo al regno quantico che nei Marvel Comics è noto come microverso una realtà in cui secondo Hank Pym il tempo e lo spazio non esistono nei Marvel Comics il primo Ant-Man ovvero quello di Hank Pym ha contribuito a fondare i Vendicatori il supereroe infatti ha dato il suo contributo nella battaglia contro Loki che ha poi portato i personaggi a unirsi per creare il supergruppo i poteri di Ant-Man sono molto particolari quando si rimpicciolisce infatti il personaggio conserva la sua forza normale di conseguenza ricevere un pugno da Ant-Man anche se alto quanto una formica è come prendere un pugno vero quando invece il supereroe diventa Giant-Man ovvero cresce di dimensioni come ha fatto in Civil War e come sembra fare anche nel nuovo film la sua forza aumenta permettendogli di sostenere grossi pesi nei Marvel Comics Hank Pym è diventato uno zombie esiste infatti un ciclo di storie dedicato a una realtà alternativa in cui tutti i supereroi Marvel sono stati infettati da un virus che li ha trasformati in dei morti viventi anche Hank Pym viene contagiato e si pone a capo di un gruppo che dopo aver divorato Silver Surfer riesce a fare l'impensabile, divorare Galactus, il divoratore di mondi come già detto Hank Pym ha vestito i panni di Ant-Man ma non solo una delle sue identità è stata quella di Calabrone non molti sanno però che in realtà dietro quella maschera si è nascosto per molto tempo uno Skrull gli Skrull sono degli alieni mutaforma che nei Marvel Comics hanno organizzato un'invasione segreta prendendo il posto di alcuni noti supereroi e Hank Pym è stato rimpiazzato anzi la sua sostituzione è stata una delle più importanti visto che al tempo collaborava con le più grandi menti del pianeta come Iron Man e Mr. Fantastic il titolo di questo nuovo film Ant-Man and the Wasp è un omaggio alla serie a fumetti in cui è debuttato per la prima volta il personaggio di Wasp ovvero una vecchia storia che ha visto i due supereroi combattere fianco a fianco contro un alieno proveniente dallo spazio queste quindi ragazzi erano 10 curiosità sul personaggio di Ant-Man ora se voi ne conoscete altre fatemelo sapere qui sotto con un commento e fatemi anche sapere che cosa vi aspettate dal nuovo film io spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video fino ad allora vi auguro di passare una buona settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti